Perché non fare un parco storico, un parco monotematico, una piccola Gardaland? Un parco divertimenti a tema storico a Gorizia. È un'idea ancora embrionale. Tra il 19 e il 20 settembre il sindaco della città esontina, Rodolfo Ziberna, sarà a Verona per discutere di alcune questioni. E sul piatto ci sarà anche l'incontro con gli ideatori del famosissimo parco di Gardaland. E vedere se c'era la possibilità di trasformare quello spazio a tutt'oggi destinato ad eventi fioristici per realizzare qualcosa davvero capace di attrarre persone. Capace di attrarre sia per i luoghi fisici, sia per quelli virtuali, perciò multimediali, dai ragazzi agli adulti. Capace perciò, ripeto, non vogliamo fare una Gardaland, anche perché gli spazi sono molto più circoscritti, non vogliamo attrarre 3 milioni di persone, ma uno spazio più piccolo. Che possa attrarre alcune centinaia di migliaia di persone. Se noi portassimo 300 mila persone, considero che il castello, che è il manufatto più visitato, richiama circa 50 mila persone. Se noi riuscissimo a portare perciò 300 mila persone all'anno a Gorizia, cioè una media di 1000 persone al giorno, sarebbe un grandissimo successo per tutta la città, non soltanto per gli abbregatori, per i ristoratori, ma per tutte le attività commerciali.